Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con ConfCommercio Notizie. Le clausole di salvaguardia su IVA ed accise saranno totalmente eliminate. Lo ha annunciato il Ministro dell'Economia Piercarlo Padoan nella conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri che ha approvato la nota di aggiornamento al DEF. Il documento di economia e finanza sarà all'esame dell'Aula del Senato il 4 ottobre prossimo. La crescita del PIL per il 2017 è fissata all'1,5%, un dato che il Governo conferma per il 2018 e il 2019. Ad aprile si parlava di un 1,1% quest'anno e dell'1% nei prossimi due. Per qualcuno sarà una stima ottimistica, ha detto il Ministro dell'Economia Piercarlo Padoan, ma noi riteniamo che sia possibile perché pienamente giustificata dalle politiche che attueremo. L'eliminazione definitiva delle clausole di salvaguardia che avrebbero portato all'aumento dell'IVA, misura che entra in un quadro di ripresa che tende a consolidarsi, è certamente una buona notizia, ha commentato il Presidente nazionale di Confcommercio Carlo Sangalli, perché introduce quei nuovi e necessari elementi di fiducia di cui il Paese ha bisogno. Anche se la cautela è d'obbligo perché ancora molte famiglie e territori non hanno toccato con mano i segni della ripresa, la direzione è quella giusta. Legalità Mi Piace è l'iniziativa di Confcommercio Nazionale che si concretizza in un monitoraggio sulla situazione delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi e dei trasporti colpite da episodi criminali. Da qui l'invito a compilare il questionario Legalità Mi Piace, a cui si può accedere dal sito confcommerciovicenza.info. Si forniranno così in maniera anonima alla Confederazione ulteriori elementi per proseguire e rafforzare l'azione di sensibilizzazione nei confronti dell'opinione pubblica, delle istituzioni e del governo, per prevenire e contrastare con maggiore efficacia questi fenomeni. I risultati dell'indagine, svolta in collaborazione con GFK e Urisco, saranno presentati durante la giornata di Confcommercio Legalità Mi Piace, che si svolgerà il 21 novembre prossimo. Ed ora facciamo luce con il nostro esperto in fisco e i tributi, Paolo Maran, di Confcommercio Vicenza, sulle norme in vigore riguardanti l'obbligo del post e le relative eventuali sanzioni per chi non è in regola. Molti dubbi, tante telefonate e c'è sicuramente la necessità di far chiarezza. Quindi se la domanda è da quando è necessario installare gli apparecchi per accettare i pagamenti elettronici è da febbraio 2016. Però, come abbiamo già detto anche in altre occasioni, questo obbligo non è stato poi seguito da un decreto che doveva emanare le sanzioni per chi non installava l'apparecchiatura. Pertanto, ad oggi, non c'è nessuna sanzione. Il decreto vero e proprio, che doveva essere fatto dal Ministero competente, non verrà emanato. Perché? Perché l'Italia ha recepito recentemente una direttiva europea che riguardava i propri pagamenti elettronici. Quindi ad oggi il decreto legislativo emanato dal governo, ma che non è operativo, è alla discussione delle commissioni parlamentari che dopo porterà la questione in Parlamento. Quindi chi non si è adeguato con il POS non ha nessuna sanzione. Quindi oggi chi non si è adeguato con il POS non ha nessuna sanzione. È chiaro che il decreto legislativo dovrà essere discusso anche con le parti sociali e quindi anche con Confcommercio, che rappresenta quelli che sono i diritti dei commercianti. Dal 1 gennaio 2018 sarà abolito il servizio di maggior tutela per luce e gas. Ci saranno aumenti delle tariffe o sarà un'occasione di risparmio? Ne parliamo con Massimo Chiovati dall'Ufficio Commercio Interno di Confcommercio Vicenza. La legge annuale per la concorrenza in mercato approvata nel mese di agosto ha stabilito come ultima data del mercato della maggior tutela quella del 1 luglio 2019. Il mercato della maggior tutela è una specifica condizione di fornitura di energia elettrica e gas metano riservata oggi per quanto riguarda l'energia elettrica alle utenze in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato inferiore ai 10 milioni di euro all'anno. Mentre per quanto riguarda il gas metano è una condizione di fornitura riservata oggi solamente alle utenze domestiche. Quindi con il 1 luglio 2019 questa opzione di fornitura verrà meno per tutte le partite IVA oggi rifornite nel mercato della maggior tutela per la fornitura di energia elettrica. E quindi cosa si prospetta? E quindi si prospetta innanzitutto con il 1 gennaio 2018 le aziende riceveranno una specifica comunicazione da parte dell'attuale fornitore che li avviserà del venir meno appunto nel corso del 2019 del mercato della maggior tutela. E quindi con l'opportunità e l'esigenza da parte delle aziende di dover sottoscrivere un nuovo contratto di fornitura nel libero mercato. E per i fornitori ci sono delle novità? Sì, anche per i fornitori ci sono delle novità. Il Ministero sta approntando i criteri in base ai quali i fornitori dovranno iscriversi ad un apposito registro e l'iscrizione nel registro abiliterà quei fornitori che vi saranno iscritti a poter operare nel libero mercato dell'energia elettrica e del gas metano. Per quanto riguarda le aziende potranno ovviamente scegliere ma con che criteri? Confcommercio in questo senso come può aiutare? Confcommercio da molti anni offre alle aziende associate la possibilità di accedere al libero mercato dell'energia elettrica e del gas metano con delle specifiche convenzioni appositamente sottoscritte con i fornitori. Quindi anche per il 2018 si prospetta questa opportunità per le aziende che quindi sono invitate a rivolgersi all'associazione per valutare fin d'ora le proprie attuali condizioni di fornitura e quindi esaminare la sottoscrizione di un'offerta tramite il fornitore convenzionato. Come mostra l'Osservatorio per l'imprenditorialità femminile di Union Camere l'universo delle donne imprenditrici continua a crescere raggiungendo 1 milione e 321 mila 862 imprese. Oggi le imprese guidate da donne rappresentano il 21,8% del totale di quelle esistenti nel nostro paese. Si inserisce così in questo contesto di crescita l'iniziativa La Forza delle Donne il primo tour dell'imprenditoria femminile vicentina organizzato dal Comitato per l'imprenditoria femminile della Camera di Commercio in collaborazione con le associazioni di categoria tra cui Confcommercio Vicenza. Nella sede di Via Montale dalle 15 alle 18.30 si svolgeranno tre incontri a tema il 3 ottobre donne in agricoltura, cibo e salute, il 4 ottobre impresa al femminile e il 5 ottobre assistenza sanitaria integrativa, bilanciamento, famiglia e lavoro. Quest'ultimo tema sarà sviluppato da Manuela Rosa dell'Ufficio Marketing di Confcommercio Vicenza. Infine il 6 ottobre dalle 9.30 alle 19 sempre nella sede camerale si svolgerà l'Open Day sull'imprenditoria femminile con la contestuale presentazione della guida Vicenza per le donne. Sarà una giornata full immersion in cui si parlerà di come progettare il proprio business di agevolazioni per l'imprenditoria femminile, di e-commerce. Maggiori informazioni sul sito www.vi.camcom.it Aprirà ufficialmente sabato 7 ottobre alle 9 in Basilica Palladiana a Vicenza la mostra Van Gogh tra il grano e il cielo. Una grande esposizione che sancisce il ritorno nel monumento simbolo della città di uno straordinario evento espositivo. A curare la mostra promossa dal comune di Vicenza sarà ancora una volta Marco Goldin e la sua linea d'ombra che tra il 2012 e il 2015 aveva portato in città altre prestigiose esposizioni. Raffaello verso Picasso, storie di sguardi, volti e figure. Verso Monet, storie del paesaggio dal 600 al 900 e Tutankhamon, Caravaggio, Van Gogh. La sera ai notturni dell'Egizia al 900. Con Van Gogh tra il grano e il cielo arrivano eccezionalmente a Vicenza un numero elevato di opere del pittore olandese, 43 dipinti e 86 disegni, costruita grazie all'apporto decisivo di quello scrigno van Goghiano che è il Kroelmüller Museum in Olanda. Ed ora le nostre proposte di aggiornamento e formazione professionale. ESAC Formazione propone dal 12 al 24 ottobre il corso in quattro lezioni dedicato alle tecniche efficaci per gestire in modo corretto e costruttivo i reclami. Dal 12 ottobre al 2 novembre, corso serale dedicato al branding e alla valorizzazione del marchio in modo originale per creare valore per l'azienda e del cliente. L'Università del Gusto propone dal 9 al 16 ottobre tre incontri dedicati all'arte da ricevere con la creazione di finger food, primi e secondi piatti raffinati, gustosi e sorprendenti. Infine, l'11 ottobre ritorna nelle cucine dell'Università del Gusto Simone Salvini e la cucina vegetariana ad autore, con un corso di 6 ore dedicato ad un menù completamente vegetariano. Ed ora l'agenda! Martedì alle 9 consiglio dell'Associazione Provinciale Ristoratori e Pubblici Esercizi Alle 16.30 consiglio dell'Associazione Provinciale Venditori e Ambulanti e Suaree Pubbliche FIVA ConfCommercio Giovedì alle 13 consiglio della sezione territoriale 1 di Vicenza Alle 19.45 assemblea del Centro Storico di Marossica E per quanto riguarda questo appuntamento con ConfCommercio Notizie è davvero tutto. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a domenica prossima. Arrivederci e buona settimana! Grazie a tutti i nostri spettatori e buona settimana!